buongiorno il brano del vangelo di oggi nel capitolo 10 di matteo che continua con i versetti dal 24 al 33 ci sollecita una domanda molto provocante di che cosa abbiamo veramente paura la domanda nasce dall'esortazione che gesù è contrario pone il positivo non abbiate paura e richiamando ciò anzi chi non ci deve far paura in realtà svela appunto dentro il nostro cuore quelli che sono i motivi erronei dei nostri timori gesù invita non avere paura di chi fa morire il corpo ma non può ledere l'anima chi non può far male all'anima non ci deve preoccupare è chiaro che dietro questa affermazione per gesù c'è la consapevolezza e la manifestazione di una verità profondissima la nostra vita non è fatta solo di corpo ma è fatta anche di spirito dico anche nel senso che corpo e spirito camminano insieme per diventare ciò che il signore ci ha impresso nel cuore fin dalla nostra creazione a sua immagine e somiglianza ma allora se veramente non ci deve spaventare chi fa morire il corpo questo implica la verità di una vita che continua di una vita più grande che dopo questa vita terrena e materiale ma ciò non significa che dobbiamo trascurare l'esistenza di questo mondo avere cura di non aver paura di coloro che feriscono solo il corpo ma non l'anima vuol dire anche vivere questa vita in un'altra ottica perché fin da adesso noi possiamo essere partecipi dello spirito di dio fin da adesso la vita di questo mondo è resa autenticamente bella nella misura in cui noi la viviamo a partire dallo spirito dalla nostra anima e curiamo ciò che l'interiorità richiede come valore come attenzione come sentimento profondo quando vediamo morire un passerotto ci commuoviamo sappiamo che questa vita è preziosa agli occhi di dio certamente ma anche ai nostri se ci commuove un passerotto che muore con il suo corpicino come possiamo pensare che non ci sia una vita più grande più profonda per noi per noi che siamo le creature predilette di dio fin da adesso il signore ci chiede di vivere nella pace profonda che nasce dalla certezza che siamo custoditi nella nostra esistenza da colui che il nostro spirito lo abita come signore e maestro e del maestro noi non possiamo essere migliori anche il maestro ha pagato con una vita donata questa sua scelta di vivere i valori dello spirito una vita donata una vita anche di sacrificio di fatica a volte di sofferenza ma è una vita nella gioia e nella pace perché dà il senso più vero a tutto quanto ci tocca incontrare nella nostra storia decidiamo allora di vivere questa giornata facendo più attenzione all'anima che al corpo sarà dall'anima che sprigionerà un'esistenza vivace anche per il nostro corpo fragile e mortale buona giornata